Cerimonia di consegna delle decorazioni della stella al merito del lavoro all'interno dell'auditorium del rettorato del Gran Sasso Science Institute, nella sede della Villa Comunale. Il prefetto dell'Aquila Giancarlo Di Vincenzo ha presieduto alla cerimonia di consegna delle stelle al merito del lavoro agli insegniti nell'ambito della Regione Abruzzo. Con questo termine è un lungo percorso, fatto di impegno, di professionalità, di dedizione al servizio del lavoro, ma il lavoro inteso anche come una dimensione sociale, quindi al cuore di tutto una comunità. Quindi una giornata importante per riaffermare alcuno dei valori fondanti della nostra Costituzione, che è il lavoro e il lavoro di sicurezza. La decorazione è attribuita con decreto del Presidente della Repubblica per riconosciuti meriti di perizia, laboriosità e condotta morale. Sono un lavoratore di Talessa Lennia Space, dello stabilimento dell'Aquila, adesso vado per 39 anni di attività, sono tuttora lavoratore, ancora non ho raggiunto la pensione. E sì, insomma, sono contento, orgoglioso di questo riconoscimento che l'azienda mi ha proposto, che mi ha conseguito. Poi ricordami anche caro, perché anche mio papà, che era un dipendente in Alteve, adesso non c'è più mio papà. Visto l'alto significato del riconoscimento, la consegna delle stelle ha avuto luogo alla presenza delle massime autorità religiose, civili e militari e dei rappresentanti delle categorie economiche e del mondo del lavoro. Oggi conferire questo premio significa anche e soprattutto fare una promessa di futuro alle nuove generazioni e promessa di responsabilità da parte delle istituzioni, perché continuano drammaticamente le morti bianche, continuano tutta una serie di questioni, nonostante i dati incoraggianti diffusi dal governo Meloni, ma siamo ancora tutti molto impegnati. Grazie. 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 Grazie.